Buonasera, ormai ci siamo quasi a queste elezioni regionali tanto attese, il conto alla rovescia sta ormai concludendo il suo corso e oggi ospitiamo con grande piacere nei nostri studi il presidente Renato Stifani, benvenuto. Allora, in giro qui in una visita in provincia d'Imperia a sostegno di area popolare e partirei proprio da questo aspetto, queste elezioni per area popolare che è questo progetto politico che comprende il nuovo centro-destra, Udc, queste realtà, un banco di prova importante? È un banco di prova importante anche perché in occasione di queste competizioni area popolare si sta espandendo perché ha acquisito il consenso a candidarsi di soggetti politici estranei ad area popolare che a volte corrono addirittura come presidenti da noi sostenuti. Mi riferisco a Tosi, mi riferisco a Skittuli, mi riferisco a Spacca nelle Marche, mi riferisco a Ricci in Umbria. Vi è quindi un'attenzione non indifferente nei confronti del nostro progetto e noi siamo certi che all'indomani di questa competizione area popolare di per sé si sarà rafforzata nel suo progetto perché avrà, come si vuol dire, incluso, speriamo, la militanza e la condivisione al nostro interno di soggetti e di aree nuove del territorio che guardano con interesse alla costruzione di una grande area moderata che si individui e si identifichi nei valori del popolarismo europeo alternativa alla sinistra. Quindi un progetto aperto volto al futuro. Un progetto aperto volto al futuro, un progetto chiaro, un progetto coraggioso, che tende ad isolare gli estremismi perché con gli estremismi non si va da nessuna parte, si può ottenere qualche percentuale di consenso in più ma non si vincono le elezioni né si è in grado di poter governare il paese. È un progetto che tende a riaggregare un centro-destra che in questo momento sta vivendo momenti di grandi difficoltà, anche di frantumazione, di crisi interna, che noi guardiamo con attenzione, vogliamo mettere un po' di ordine se ci riusciamo, partendo con la nostra iniziativa, un'iniziativa aperta che guarda comunque a tutti, guarda regole certe quali le primarie per la selezione della classe dirigente, le primarie anche per l'individuazione del nuovo candidato che sfiderà la sinistra alle prossime elezioni politiche e che guardi al territorio, guardi al ritorno al territorio con attenzione agli interessi di tutta quella gente, che sono tanti e sono milioni, che non votano più, che non votano più perché non credono nella politica e che prima votavano centrodestra. Ecco, veniamo alla scelta della Liguria, questo progetto amministrativo per questa tornata elettorale, insomma la scelta dell'alleanza? Beh, un'alleanza ortodossa, noi in ogni regione non abbiamo mai stretto alleanze con la sinistra, governiamo a livello centrale con il PD, prima eletta con poi con Renzi, in una logica di straordinarietà di momento, il nostro è un governo di scopo, non è un governo di alleanza politica, non è un governo strategico, alla fine di questa esperienza ciascuno tornerà alla propria parte e quindi era ovvio che sul territorio questo tipo di alleanza, essendo straordinaria a livello centrale, non potesse ripetersi a livello locale, perché se si ripeteva anche a livello locale si tramutava l'alleanza nazionale e l'alleanza politica. Noi siamo diversi, ci chiamiamo nuovo centrodestra, adesso è Repopolare, in quanto ci identifichiamo i valori diversi rispetto a quelli del socialismo europeo, rispetto a quelli della sinistra, anche se Renzi bisogna dare atto, sta innovando anche la sinistra, sta dando un cambio di passo anche nei tempi di realizzazione dei progetti, grazie anche al nostro contributo essenziale in Senato. Noi stiamo riusciti con la nostra partecipazione a far approvare il job act, la modifica dell'articolo 18, è notizia di oggi, proprio di oggi, l'aumento dell'occupazione, siamo riusciti a far approvare anche noi la riforma della scuola, verrà adesso in Senato, la delega sulla responsabilità civile dei magistrati, stiamo contribuendo ad attuare un programma di centrodestra. Non c'è quindi un po' di imbarazzo politico o il rischio di lasciare un po' gli elettori disorientati? No, perché gli elettori stanno perfettamente comprendendo che noi in questo governo puntiamo ad attuare dei punti programmatici di centrodestra, sono facilmente intuibili e evidenziabili. È evidente che comunque tutto ha un inizio e tutto ha una fine naturalmente, ma per noi la fine significa la fine di un percorso di grandi riforme, le riforme costituzionali, la riforma della scuola, la riforma della giustizia, la riforma del fisco, sono riforme che comunque rispetto al passato avranno un tempo di attuazione diverso, perché ripeto, il cambio di passo di questo governo è notevole rispetto al passato. Io sono da alcuni anni in Senato, sono stato caporuppo, poi anche Presidente del Senato, adesso sono caporuppo e devo dire che i tempi e la velocizzazione delle scelte legislative che stiamo vivendo in questi mesi con il governo Renzi è senza precedenti. E come vede il futuro centrodestra? Questo ritorno attorno ad un progetto di tutte le forze? Il futuro centrodestra significa avere la volontà paritaria di tutti i soggetti politici, anche la società civile che vuole scommettere se stessa, mettersi in discussione, attorno a un tavolo per individuare un percorso che tracci regole trasparenti, un programma, un progetto, la individuazione, ripeto, della classe dirigente attraverso il consenso, non eredi o scelte cadute dall'alto. Io personalmente non la penso come Berlusconi quando ha detto in passato gli statisti non hanno avuto bisogno di sostegno dal basso di primari, erano statisti e si sono affermati per la loro figura. Questo è vero calato e contrastolizzato in un passato che non c'è più. Oggi sono cambiate le dinamiche di pensiero degli italiani e gli italiani proprio si sono allontanati dalla politica perché non sono stati più chiamati a dare il loro pensiero per la scelta della classe dirigente. Quindi se c'è un metodo per recuperare questo consenso nei confronti della politica che è proprio le primarie e poi naturalmente anche la volontà attorno a questo tavolo di tenere lontana un partito come la Lega che è un partito estremista di destra, è un partito anti-Europa, anti-Euro, anti-sistema che vive di un consenso parlando alla pancia degli italiani, non alla testa, ma che è sicuramente incompatibile con i valori del popolarismo europeo. Questa Lega non è la Lega di Bossi, ho lavorato con Bossi. Cosa cambia? Cambia, la Lega era un partito di lotte di governo, era un partito che aveva anche alla fine il senso della responsabilità del governo del paese. Pensi che Bossi era partito tantissimi anni fa con la famosa secessione e poi si era convertito al federalismo ed era riuscito ad attuare il federalismo con noi. Era una Lega che puntava i piedi su alcuni principi, ma era una Lega di responsabilità, era una Lega di governo, era una Lega, devo dire, che attraverso i suoi ministri, non voglio citarne altri, ma ho lavorato a fianco a fianco con Calderoli, abbiamo avuto Maroni, grande ministro, bravo ministro degli interni, e ci sono stati degli esponenti, primis Bossi, col quale si discuteva, ci si confrontava, ma alla fine si trovava una soluzione unitaria per delle modifiche legislative. La stessa Bossi-Fini è frutto anche di quel tipico accordo che ha messo d'accordo un'ala di destra, Fini, un'ala estremista, pseudo estremista che era la Lega di Bossi, invece si è trovato una buona sintesi, è stata una buona legge. Come mai Salvini ce l'ha così tanto con il nuovo centrodestra? Un giorno sì, un giorno no, chiede le dimissioni di Alfano. Vabbè, Salvini ormai ha rotto ogni puntina del disco, sostanzialmente è diventato un hobby, ormai credo che a furia di chiedere la dimissione di Alfano ha perso qualunque forma di credibilità, ormai credo che si faccia deridere per questo. È uno sport, è uno sport, ma per fortuna gli italiani non gli credono, perché gestire un ministero degli interni in questi anni è un'impresa estremamente difficile e complicata. Alfano lo sta facendo con pacatezza, senso dello Stato, viene tra l'altro da una grande esperienza di ministro della giustizia, ha combattuto la mafia, le sue leggi di inaspiramento del carcere duro, sono sotto gli occhi di tutti, passeranno alla storia e sta gestendo il paese in un momento in cui i rischi della sicurezza, dell'estremismo, dell'integralismo, degli attentati e della sicurezza per le strade, degli sbarchi, impone un'attenzione notevole, non indifferente, senso di responsabilità che lui sta dimostrando e stanno dimostrando tutte le forze dell'ordine. Salvini prende a mirare Alfano perché naturalmente la sua posizione è la posizione dello sfascio, la posizione della denigrazione e quindi l'obiettivo principale è Alfano solo per questo, perché lui sulla critica ad Alfano distruttiva cerca di costruire il suo consenso, ma così non va da nessuna parte. Qual è il suo pensiero sulla questione migranti? La questione? Migranti. Migranti. Su la questione migranti penso che l'Europa finalmente abbia compreso che un migrante che arriva a Lampedusa non arriva a Lampedusa, arriva in Europa e che il problema è un problema squisitamente europeo, addirittura anzi di carattere più che europeo internazionale e non un problema locale. Le centinaia di morti di queste ultime settimane hanno colpito l'opinione pubblica internazionale e quindi si sono compiuti dei passi in avanti, quindi le richieste all'Europa fatte d'Alfano e fatte dal governo di esserci concretamente cominciano a dare i propri frutti. Non vi è dubbio che questa gente viene perché fugge da territori, non soltanto alla Libia, da territori dove vi sono conflitti bellici di genocidi, di uccisioni per guerre tribali interne a paesi dove non vi sono governi e quindi la Libia è soltanto il punto di raccolta dal quale si parte. In Libia non vi è un governo col quale è facile discutere perché non ha né la forza né la volontà di gestire questo problema, il governo di Tobruk e quindi deve intervenire la comunità internazionale. Noi ci siamo fatti carico di grandi impegni attraverso le nostre missioni e ritengo comunque che l'apertura da parte dell'Europa nella gestione di flussi di profughi è un primo passo verso un approccio diverso. A questo si deve accompagnare una politica possibilmente nello stesso territorio libico, non militare perché non possiamo andare certo a dichiarare guerra alla Libia o affondare i balconi come vorrebbe Salvini, magari con la gente dentro, ma lavorare lì per attivare i campi profughi, per discutere attraverso le stesse tribù della Libia in modo tale da consentire a quel territorio di evitare gli sbarchi e le partenze dando loro assistenza, assistenza umanitaria perché il problema va risolto a monte, non soltanto quando ormai quando le persone sono partite il problema purtroppo non è più risolto, li devi soccorrere il momento in cui chiedono l'aiuto perché la solidarietà umana per noi è inviolabile. Torniamo un attimo alle elezioni perché poco fa lei ha toccato un tema importante, l'astensionismo, c'è grande preoccupazione, ci sono alcuni indicatori che dicono che possano andare a votare solo il 52% per esempio degli aventi diritto, questa è una cosa molto grave. Sì, molto grave, preoccupante e fa il paio con la crisi del rapporto tra cittadino e politica. Io da questo emittente vorrei fare un appello, un appello forte e convinto a tutti i cittadini della Liguria e tutti gli elettori della Liguria di andare a votare. Votino secondo la libertà del loro pensiero sacro e inviolabile nella segretezza dell'urna, ma votino perché in questo modo rafforzeranno la nostra democrazia, saranno loro i titolari di un parere, di una indicazione che darà alla loro regione una guida, perché se questa crisi si consuma nell'astensionismo rischia di avvitarsi su una crisi stessa della rappresentatività delle istituzioni, perché essere eletti a Presidente della Regione con una bassa percentuale di elettori sicuramente rappresenta un deficit anche di rappresentanza dell'eletto, quindi l'eletto con una grossa percentuale di assoluta, non particolare, una grossa percentuale in termini assoluti di voti sicuramente è un eletto che ha una sua identità, una sua dignità. Non aiuta sicuramente il rapporto Palazzo Marciapiede e la crisi economica in atto, molto pesante anche qui in Liguria, poi parlo per il Ponente, non abbiamo industrie ma viviamo di servizi, di turismo, come potrà essere possibile una ripresa economica? Se ne parla tanto ma gli effetti forse qui da noi tarderanno ad arrivare, proprio perché non abbiamo produzione ma abbiamo servizi. Voi guardate molto al turismo, il tema della Liguria è anche il tema delle infrastrutture, infrastrutture che credo in questi ultimi anni è stato estremamente carente sotto il profilo del governo della regione, cioè si è abbassata la guardia sull'attenzione alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali che, come lei sa, sono il volano per la valorizzazione del turismo e su questo naturalmente noi puntiamo perché vincendo le elezioni abbiamo un programma molto chiaro sul rilancio delle infrastrutture. La crisi economica è una crisi dalla quale si comincia a intravedere nazionale, si comincia a intravedere un pizzico di crescita anche perché finalmente per la prima volta il rapporto deficit-pill è passato da meno a più, seppur di poco cominciamo a crescere. Le esportazioni sono aumentate in misura superiore addirittura al 10%, lo leggevo oggi, mi dichiarazione del Ministro Guidi. L'aiuto che abbiamo dato alle imprese attraverso il contributo del nuovo centro-destra è stato quello dell'eliminazione dell'IRAP dal costo del lavoro, questo ha consentito a molte aziende uno sgrave, una riduzione della pressione fiscale e molte aziende che non hanno pagato l'IRAP hanno potuto investire parte di questo sgravio in ammodernamento dei macchinari e in assunzioni, quindi noi come politica guardiamo principalmente non tanto al famoso salario sociale, al quale parla 5 Stelle ed altri perché non è con l'assegno di Stato che si risolve il problema della disoccupazione, ma guardiamo con attenzione all'impresa, l'incubatore del lavoro, del lavoro dei giovani è l'impresa, non è tanto il salario sociale, il debito pubblico e l'impresa deve essere messa in condizione di poter assumere, ma per assumere ha bisogno di avere delle commesse, di avere un costo industriale basso, un prodotto competitivo e quindi integrazione della specializzazione e l'adeguamento di tutto nella ricerca e su questo fronte noi guardiamo all'impresa facendo in modo che l'impresa attraverso anche una grande opera di sburocratizzazione del sistema amministrativo possa effettivamente lavorare serenamente in tempi veloci sotto il profilo delle decisioni. Chiuderei con un'ultima domanda più leggera per concludere questo nostro incontro con un sorriso, cosa le piace della Liguria? Il mare. La conosce bene la nostra terra? Sì, ho visitato in passato anche 5 terre, stupendo. Grazie al Presidente Renato Schifani per essere stato con noi e buon lavoro. Grazie. Grazie a tutti voi per il cordiale ascolto, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.